signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite di questo canale e questa settimana abbiamo con noi un ospite gestione e mirko pelliccioli per parlarci del original school del gioco di ruolo originale allora intanto è sbagliato il nome devi rifare è mirko pelliccioli con la n scusa vabbè fai niente rifacciamo dai la terza è sempre quella giusta la terza è quella buona signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e questa settimana abbiamo con noi un ospite d'eccezione mirko pelliccioli per parlarci del original school il gioco di ruolo originale mirko dai presentati cos'è perché tu sei l'esperto in tutto questo intanto grazie per il titolo di esperto io mi ripeto semplicemente una persona abbastanza anziana da aver avuto tempo per giocare più di altri ma ci sono persone più anziane di me che hanno giocato più di me e gioco da 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 sempre ormai passo il conto stiamo parlando delle partite le ho fatte nel 1986 85 85 per essere esatto e quindi è un po di annetti che gioco di ruolo è diventato una passione poi la passione è diventata una professione perché nasco come grafico e come illustratore ho lavorato per diverse case editrici di giochi di ruoli italiani tra cui la più importante che ricordo con affetto la 25 edition che ha portato giochi come dnd come vampire in italia ho collaborato con molte altre case poi nel tempo crescendo l'esperienza la passione ho fatto qualche gioco di ruolo anch'io negli anni 90 e 2000 ricordo fra tutti il gioco primo gioco di ruolo che ho pubblicato che è grumi il gioco di ruolo c'era di manga 1998 quindi qualche annetto fa e che presto vedrà una nuova veste grafica e una nuova edizione perché sono sempre in buoni rapporti con capa lab capa edizioni che sono gli autori del gioco sui manga che l'altra mia grande passione con cui ho avuto modo anche di lavorare in case editrici importanti e arriviamo ad oggi per farla breve e mi trovo a essere il fondatore dopo varie esperienze di collaborazione a essere il fondatore di una piccolissima microscopica case editrice fatta da appassionati familiari amici nella quale ho riversato tutta la mia esperienza e stiamo facendo e producendo giochi di ruolo in italiano prevalentemente e la case editrice si chiama mp edizioni che è stata fondata circa un anno e mezzo fa ma nasce appunto da tutte queste esperienze per cui avendo giocato tanto avendo giocato molti giochi e avendo avuto anche l'esperienza la possibilità di conoscere molti esperti del settore sia stranieri che italiani ho maturato un'esperienza di vita ecco niente di più se possiamo dire sono esperto per appunto questioni anagrafiche e anche perché la passione per me è stata importante e profusa si nei primi giorni in cui ho conosciuto questo gioco che è il gioco di ruolo questo modo di giocare e di stare assieme iniziando faccio un piccolo aneddoto con un gioco che non tutti hanno iniziato con quello che sono dei pochi che non siamo pochissimi ma non siamo la maggioranza che è iniziato con un gioco chiamato uno sguardo nel buio uscito per l'e l appunto nei primi anni ottanta gioco tedesco e quindi sono uno dei pochi che ha iniziato proprio a tirare i suoi primi dadi con non da just and dragon della wii della wizard oggi di la tia sterile allora ma con un altro gioco che appunto questo gioco tedesco che tra l'altro è ancora esistente lo sguardo del buio è sì è uno dei giochi è uno dei giochi originali quelli che hanno fatto lo scuolo si è proprio lo scuolo proprio vero cioè è proprio uno dei primissimi giochi che tra l'altro non ho detto il curioso è più famoso nel germania di dungeons and dragon lo batte di parecchie lunghezze è stato a causa e per colpa diciamo di lupo solitario che nel sempre editato all'epoca la dalla e l io comprai erroneamente questa scatola con dentro questi due libri cini convinto fosse un altro libro game nuovo invece no mi trovai qualcosa di completamente nuovo non ero protagonista di una storia già scritta ma potevo creare io e fu veramente una illuminazione una rivelazione come quella di san paolo che viene folgorato è stata veramente una scoperta e si è aperto un mondo da lì e penso che molti abbiano più o meno avuto una storia come questa almeno nei primi anni tornando all'argomento della chiacchierata che stiamo facendo appunto il partiamo proprio da questo allora tu sei uno di quelli che almeno per quanto l'italia è stato uno degli early adopter del gioco di ruolo tu poi mente appartieni se non alla prima la seconda generazione i giocatori italiani nel video che appena passato quello della paio settimane fa per qui sta vedendo questa intervista adesso noi abbiamo parlato della nascita del gioco di ruolo del dell'original del gioco di ruolo classico per quanto riguarda gli stati uniti che dove è nato qua in italia invece è arrivato praticamente dieci anni dopo quando era già quando c'era la tua generazione di giocatori come hai detto te non è neanche dnd che sto il primo gioco di ruolo in realtà non è stato neanche uno dei primi anni ad arrivare in italia quindi per te che appartenevi a quella generazione appartieni ancora quella generazione però com'era giocare di ruolo negli anni 80 negli anni 90 che per molti di quelli che quando stanno vedendo questo video probabilmente è una è un'epoca anche antecedente alla loro nascita e per molti altri probabilmente c'erano già ma non sapevano leggere tra cui sottoscritto mettiamola così io sono dell'ottantaquattro allora tu hai un anno come ho iniziato a giocare io allora intanto bisogna pensare e facciamo un salto indietro nel tempo un'epoca dove non c'erano social non c'era internet non c'era questa capacità e possibilità di scambiare ai tempi immediati informazioni quindi in realtà la mia è un'esperienza che per l'epoca poi col tempo poi tra a casa editrice associazioni fiere lucca e quant'altro poi ho aperto i miei orizzonti ho conosciuto molta gente però all'inizio era proprio una cosa da carbonari cioè tu ti trovavi nella città di bologna sono bolognese di origine con questo gruppo di amici che ti dice guarda giochiamo la sera in centro a bologna nel museo del soldatino nelle cripte dell'antica cosa il museo del soldatino era era una associazione che aveva una location che era praticamente nella città vecchia di bologna in centro tu venivi invitata questa cosa esoterica di quasi nulla io ho avuto questa sfortuna fatto vedere il lupo solitario e uno sguardo del buio a scuola facevo ancora gli superiori all'ultimo anno di superiori e naturalmente questa fu per loro una rivelazione tra giochi di ruolo alcuni amici che non sapevo perché poi non si sapeva che c'era in questa comunicazione mi diceva vieni a giocare e trovai questo mondo dove c'erano queste persone più anziane di me che avevano iniziato a giocare in inglese perché appunto era stato portato dagli stati uniti direttamente da chi aveva fatto esperienze di scuola universitaria o post universitaria la l'aveva portato io ho giocato per esempio con la prima traduzione maccheronica fatta da il comitico mio primo master fabrizio in ciclo stile su dei fogliacci rilegati con delle graffettature che praticamente erano una cosa molto amatoriale il manuale c'era era dentro l'armadietto nessuno lo toccava perché non so sbagliava era la versione mol vai per esempio non la scatola rossa il mio primo dndi lasciando stare l'esperienza di lupo solitario e di uno sbaglio nel buio era la versione che in italia poi non è anche mai arrivata la famosa bx che tutti conoscono poi perché è stata riproposta adesso nella versione old school renaissance di ose però in realtà quella l'edizione la scatola rossa arriverà l'anno dopo e io la comprai ovviamente subito per iniziare anch'io a fare questo passaggio di consegne da giocatore ad arbitro c'era anche questa cosa l'arbitro era una figura era un demiurgo era una figura che emanava una certa autorità mistica perché quello che aveva in mano il manuale e faceva le storie e quindi tutti volevano poi passare a fare l'altro per avere questa esperienza diventare master e cominciamo quindi a comprare subito i manuali ma l'esperienza era limitata a bologna poi c'era l'associazione dove andavo più grande che poi continuai a giocare lì che si chiama esiste ancora dopo tutti questi anni e saluto se qualcuno vedrà di loro il video che è l'associazione di corticella una quartiere di bologna che si chiama vicolo balocchi giocano gli adulti che è stato praticamente il luogo dove sono cresciuto e si vedeva con altre realtà soltanto quando si andava a qualche fiera le prime lucca per esempio che ancora erano solo del fumetto però molti erano anche appassionati di giochi quindi qualcosa circolava si chiacchierava di queste cose però erano tutte realtà molto chiuse ma non perché eravamo chiusi non era una questione di elitarietà semplicemente perché i mezzi di comunicazione di allora non erano quelli di oggi quindi se non c'era un negozio dedicato in una città o non c'era modo di incontrare qualche appassionato all'interno di una fiera che non era neanche di settore perché non c'erano ancora c'erano le prime modi non esisteva il settore non esisteva il settore esatto eravamo proprio e anche quando andavi a scuola in autobus e chiacchieravi dell'avventura della sera prima ricordo sempre questo aneddoto di cui parlavamo con un amico che saluto giorgio tonelli con cui iniziato che mi ha iniziato poi a molti giochi di ruolo parlavamo dell'avventura della volta prima le nonnine con le loro sportine di spesa ci guardavano spaventate perché parlavamo di torture parlavamo di uccidere i mostri e cioè era veramente un mondo a sé non era una cattiveria era proprio un fatto cioè noi eravamo diversi dagli altri non c'erano neanche videogame attenzione si parla di un'epoca in cui comparivano i primi videogame testuali e c'erano le prime storie su commodore 64 amiga amiga mille a 1500 cioè eravamo proprio i primi passi anche della videoludica di ruolo e quindi era nuovo era l'epoca dei mood delle avventure testuali esatto che probabilmente prece quando i videogiochi non avevano una grafica siamo proprio beh per molti probabilmente stiamo parlando di antichità estreme e allora un'altra un'altra domanda in quest'epoca fantastica e misteriosa dei nostri progenitori come veniva condotta una una sessione all'epoca cioè quando tu hai cominciato a masterario quando tu giocavi sotto il tuo master originale cosa succede come era la conduzione un'avventura al tavolo cosa si faceva in una quest ai tempi del della scuola classica parliamo di dnd per semplicità perché in realtà abbiamo giocato store bringer abbiamo giocato a cthulhu abbiamo giocato a traveler la versione originale quella degli anni 70 80 abbiamo giocato a tantissime cose poi nel tempo sono arrivati altri giochi facevamo a gara chi portava un gioco nuovo in associazione per provarlo eccetera c'era una gran voglia di conoscere ancora tutti in inglese perché da poco arriverà poi la strata libri a fare poi quella pri pista che è stato gli anni 90 ma è già un altro capitolo secondo me di cui dovremmo fare una chiacchierata solo su quello noi si giocava in due modi o copiando e ispirandosi ai nostri master cioè io vediamo come lavorava a fabrizio ho fatto delle avventure con fabrizio quando porto l'avventura mia me la costruivo a casa ci scrivevo due cose pensavo come fabrizio aveva fatto l'avventura oppure usavamo le avventure già scritte c'erano già le prime avventure di dungeon dragon in italiano quindi sono adesso da collezioni costosissime si sta perduta la principessa d'argento il castello degli amber sono tutte avventure che noi prendevo e copiavamo da lì com'era la struttura e quindi abbiamo giocato school perché quello era il modello di riferimento che trovavi anche negli state ok noi poi molti di noi sapevano già un po masticare l'inglese quindi si comprava materiale inglese io per esempio ho tutti i gazzettieri del mistara nel mondo conosciuto di danno sandrago in inglese perché si riusciva in qualche modo a leggerlo anzi è stato molto bello anche questo poter imparare la lingua facendo cose che ti divertivano io che sono sempre stato un po una scarpa in inglese perché al liceo artistico ho fatto liceo artistico all'epoca non c'era lingue quindi ero un po un autodidatta mi ha aiutato tantissimo adesso io leggo e scrivo tranquillamente in inglese ma ho imparato l'inglese da autodidatta non una scuola o un corso in particolare grazie ai giochi di ruolo c'è anche questo particolare apriva la mente ti dava una prospettiva diversa delle cose e il modo di giocare era come spesso dico quando si parla di oscule molto diverso da quello che era e sarà scusate il oscule che conoscete voi o lo sr come viene chiamato sempre prende solo alcuni aspetti di quel periodo storico che ricordiamo era un periodo storico pionieristico anche negli stati uniti era tutto in divenire cioè quello che poi diventerà canonico negli anni 90 lo storyteller il fatto che devi raccontare una storia doveva ancora tutto arrivare era tutto un esperimento si provava si copiava dai libri prendevi un romanzo che ti piaceva e provavi a trasformare in un'avventura ma la prima cosa che pensavi non era il flusso narrativo diremo oggi o l'autorità narrativa la prima cosa che ti veniva in mente a faccio ci faccio un dungeon foglio a quadretti stanza ricolo mostro tesoro perché quello era l'esempio che ci veniva dato da i prodotti che venivano fuori all'epoca parlo sempre dei primi anni 80 poi arriverà un sacco d'altra roba e quindi era un modo di giocare che per un verso ricorda quello che adesso voi sperimentate con gli oscule renaissance con gli sr ma in realtà lo sr ha fatto una scelta filosofica e stilistica di prendere solo alcuni aspetti per esempio si narrava molto si raccontava molto una volta e se non c'erano regole non era un problema risolvevi con un tiro caratteristica o tirano un dado da sei se fai sì dispari sì pari no ci si improvvisava si era anche game designer perché non c'era il concetto del design di un gioco fatto finito play testato e quindi tu aggiungevi house rule a nastro chi per esempio da vans ed io comprai pochi anni dopo nell'ottantotto a dnd perché mi ero fissato con dragon su quello si potrebbe fare un video su quanto ha impattato quelle quei racconti nel modo di giocare in quella generazione che alla mia e voleva a tutti i costi giocare ad advanced perché advanced ma molti non volevano staccarsi da dal dnd scatola rossa quindi c'era aggiungevi le classi paciugare con le razze c'era tutto molto laboratoriale e poi c'era questo scambio carbonaro no in cui andavi alle prime fiere diceva ma io faccio questa cosa fatta in questo modo ma io la faccio in un altro ogni gruppo era un laboratorio ogni gruppo di gioco era un gioco diverso c'è da dire che dragon lens per l'altro tecnicamente un video è già stato fatto lo metto quassù da qualche parte in realtà ha segnato poi la nascita con l'arrivo di dralo gollens è cominciato quella che poi diventerà la scuola tradizionale che sarebbe la mia che però si è canonizzata in realtà anni dopo perché nel 2000 e teoricamente la scuola trad questo l'abbiamo detto nel video la scuola trad e la scuola osr sono nate praticamente in contemporanea nessuna delle due il modo originale di giocare e sì questo è veramente qualcosa di il gioco di ruolo all'inizio era qualcosa di effettivamente molto diverso da quello che uno può trovarsi al tavolo adesso e per una persona come te che comunque ha continuato a giocare e comunque adesso sei ancora attivo fai fiere tu mp producete giochi tra l'altro adesso dovreste avere in uscita durma ora si abbiamo un gioco narrativo si chiama druck moro all'ultimo branco un gioco diesel punk fantasy frutto del lavoro di roberto vi salvatore barba cremonini detto varley sono gli autori che mi hanno portato il progetto ed è un gioco che appunto appena è finito il preordere dovrebbe uscire entro primavera e lo stiamo finendo di produrre però un gioco narrativo potremmo dire come dici tu appunto un gioco molto lontano dallo school è un gioco neotrad così mi posso dire e fare una confessione a tutti visto che c'è queste interviste ne approfitto vada vada le categorizzazioni le tassonomie mi pare si dica scusatemi questo cosa di nome il cappello a tutto va benissimo perché comunque divertente c'è chi ne ha bisogno però io lo trovo una cosa che faccio fatica proprio venendo da quell'esperienza a considerarla una roba utile per giocare perché alla fine le cose si si fondono si mescolano le carte io vengo da un'epoca in cui non c'erano categorie perché era tutto un un unico minestrone poi c'era l'arbitro il gruppo che preferiva narrare io ricordo ancora con shock quasi da infarto le prime volte che giocai con i cappa e cappa sono appassionati di fumetti e famosissimi esperti nel mondo dei manga sono stati e sono anche dei giocatori di ruolo li ho conosciuti così mi ricordo ancora che a casa del loro arbitro massimo il tiro iniziativa è metto i dadi al centro il primo che ci si fionda fisicamente sopra tipo placcaggio di rugby all'iniziativa la prima volta che andai a giocare rimasi sotto questa cosa e il momento del buon tè era quasi un momento c'è la pausa no come si dice anche alcuni manuali moderni come l'ultimo quinta dice no che parlare tavolo con le stuzzichini è vero anche i comportamenti sociali erano molto viabili da tavolo a tavolo quindi dividere i giochi in categorie può servire a uno storico qualcuno che vorrà scriverci un libro però per giocare secondo me diventano troppo un esercizio di stile e molto intellettuale ma è quello che abbiamo visto poi che continueremo a vedere nel corso della serie che stiamo facendo la categorizzazione dei giochi vabbè la grande categorizzazione quella giochi osr giochi tradizionali e giochi narrativi in realtà è nata nel 2000 per motivi puramente commerciali per identificare il prodotto che stava cominciando a diversificarsi sul mercato a uno che piaceva dnd all'epoca alla terza edizione probabilmente non sarebbe piaciuto cani nella vigna e viceversa quindi serviva un modo per distinguere questi giochi tra i loro proprio a livello di vendita la categoriazione quella proprio in questa serie abbiamo chiamate le scuole o le correnti del gioco sono dovute al fatto che oramai la platea si è talmente aumentata che alcune forme di gioco sono venute a cristallizzarsi quindi servono anche nomi per distinguerle no no ma lo capisco anch'io come autore ed editore ti dico che dura ora è un gioco narrativo per darti come dire una bussola no per dire più o meno dove puoi andare a parare però in realtà se ci guardi dentro c'è tanto altro e così tutti i giochi per esempio io trovo che lo school sia tante cose però nello school renaissance ne vedo solo un aspetto per esempio una cosa che è fondamentale nello school era il sandbox no il primo danderson dragon di blackmore scritto da dave arnelson e poi altri giochi sono un fan dave ho quasi tutti i giochi che ha scritto lui amava molto il concetto del sandbox per esempio in adventure in fantasy gioco del 79 che scrisse subito doveva lasciato la tsr di gigax era un poco basato solamente sul sandbox tu non avevi minimamente trame storie o begano avevi una mappa dove mettevi dei punti narrativi attivabili dal giocatore ci andassero a picciare dentro e si attivavano le storie che nascevano spontaneamente dagli incontri questo modo di giocare per esempio che la old cool renaissance l'osr scusate faccio prima dire così non tratta quasi per niente poco ce ne parla adesso ho visto dei giochi che hanno queste caratteristiche si si è continuato molto sul dungeon crawl sul sulla mortalità sul fatto per esempio che si tirano i dadi se non quando è necessario ma questo è un artificio narrativo scusate gioco di parole di oggi perché in realtà all'epoca non ti preoccupavi se dovevi o no tirare un dado diventava naturale tirare un dado quando serviva ma non è che c'era una filosofia dietro era proprio diverso di concepire il gioco io ho conosciuto gruppi che giocavano di indi senza tirare mai dadi parlavano e basta fatti soprattutto da ragazze che all'epoca erano piuttosto rare e questo è un'altra verità all'epoca poche donne poche ragazze si avvicinavano al gioco perché appunto era visto una cosa strana ma le poche che si sono avvicinate e poi sono diventate cari amiche alcune sono scrittrici alcune sono sceneggiattrici adesso illustratrici penso la cangini a chi era pietro costini che una mia cara amica che scrive romanzi loro giocavano di ruolo in modo narrativo cioè non si trova quasi mai un dado non era quasi mai un prima di sfida un problema di raccontarsi delle storie ma le raccontavi proprio perché le maglie del gioco di ruolo di allora non talmente larghe anche livello di tolleranza al tavolo che una volta che un tavolo si aggiustava sul modo di giocare e era a posto ecco non so come dire meglio ok una una domanda per per te che hai avuto ti sei visto praticamente tutta la storia del gioco di ruolo in italia adesso quando tu giochi adesso con diciamo i giovani o comunque i giocatori delle varie generazioni successive ci sono delle effettive differenze nel comportamento della gente al tavolo sia rispetto ovviamente sicuramente rispetto come dicevi te all'epoca il gioco di ruolo molto più istintivo ma adesso tu riesci a capire come giocherà una persona in base all'età o comunque questa cosa che alla fine ognuno gioca come a lui sembra più giusto è continuata andare avanti abbiamo semplicemente molte più parole per descriverlo adesso il gioco di ruolo è cambiato secondo me molto almeno per la mia esperienza chiaramente non posso parlare per altri nel momento in cui è arrivata la quinta edizione quinta edizione ha cambiato molti paradigmi e noto che i ragazzi più giovani quelli che hanno meno di 30 anni hanno una visione del gioco diversa da quella che avevamo noi ma anche diverse dalla vostra della tua generazione perché appunto hanno un modo di giocare che per esempio dico la banalità i personaggi sono già eroi nelle meccaniche dei giochi di oggi il personaggio è già fatto e finito noi diventavamo eroi perché ci raccontavamo storie delle loro vicissitudini cioè io un personaggio al primo livello scrivevamo ground perché probabilmente moriva l'avventura della sessione dopo quindi non era assolutamente dovevi guadagnar te lo eroi dove diventavi sul campo cioè ricordando dopo un anno di campagna diceva ti ricordi taron mio personaggio il fantasia zero si chiamò come il famoso personaggio di tarone a pentola magica e ricordavamo le sue gesta oggi c'è questa cosa di pensare che il personaggio non può morire al massimo muore il party ma è raro che la storia deve sempre andare avanti e quando li fai giocare alla vecchia maniera c'è uno shock alcuni scappano via io ho trovato persone che sono volute venire da me volevo giocare come si giocava una volta ho preso la quinta edizione e l'ho usata con scritta nel manuale c'è una sezione apposita per gestire old school da giustizio dago quinta è un giocatore sono scappati via dicendo così non aperto io muoio sempre sempre perché non stai attento quello che fai altri che invece se ne sono così innamorati che giocano ancora con me via disco che oggi usiamo queste tecnologie per comodità e che mi dicono guarda giocare con te a quel sapore di una volta però so che quando gioco con te il livello di sfida è chiaro e in fondo alle avventure che fai tu mirko mi sento di aver compiuto un'impresa veramente adesso non perché sono bravo non è quello il problema però uno delle chiavi del mondo per una volta è che il gioco doveva essere appreso bene doveva essere affrontato bene e la storia doveva essere vissuta senza prenderla alla leggera perché morivi male e questa cosa dove essere ce l'ha è la cosa che mi piace molto dell'ossere di oggi va bene allora io ti ringrazio per essere stato qui con noi questa settimana averci portato un esempio pratico di qual è la scuola classica almeno per l'italia non so hai qualche conclusione finale da condividerci guarda lo consiglio che dico tutti giocate vari tipi di giochi affrontate anche uscite dalla vostra confronto e provate giochi che non conoscete bene o che vi sembrano strano potrebbe essere un'esperienza negativa ma potrebbe aprirvi un mondo perché questo è un lascito che lascio proprio a livello di come si giocava una volta una volta tutti i giochi erano una novità entusiasmante oggi sono tutti già un po visti li hai già sentito parlare c'hai visto un video trovate l'emozione e quello spirito pionieristico di un tempo in cui ogni volta l'esperienza era una novità provate a giocare più cose possibili perché il gioco di ruolo si conosce meglio se ne può diventare appassionati a 360 gradi secondo me è solo sperimentando vari modi di giocare la mia speranza è proprio che con questa serie di video la gente veda di persona altri tipi di gioco altri modi di giocare e soprattutto altri master e altri giocatori comunque ne stiamo noi stiamo già sporando quindi ti ringrazio per questo intervento sicuramente poi ci rivedremo in futuro con altri video perché di roba da parlare ce n'è io invece saluto tutti quanti voi come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividete l'occhio da crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella io sono il master kai e noi ci rivediamo nel prossimo video